Logico dal punto di vista delle scale lo può essere, dal punto di vista dell'organizzazione scolastica ci sono state altre priorità che mi hanno portato a fare questa scelta anche su segnalazione di docenti, genitori, per altre motivazioni, non soltanto per le scale. Le classi prime sono ubicate qui dove c'è una sola rampa di scale, effettivamente non sono, e i bambini vengono accompagnati dai docenti in classe, dai collaboratori scolastici, per cui d'altronde, come ben sapete, molte scuole del contesto cittadino hanno le aule al primo piano, al secondo piano, per cui diciamo ci sono dei limiti logistici che non possiamo... L'altra protesta invece viene da parte di alcuni genitori che pare che a loro spese e con il loro impegno abbiano ristrutturato alcune aule di questo presso, invece i figli quest'anno sono stati spostati in centrale, un po' la protesta opposta. I genitori hanno collaborato e devo dire lo fanno sempre, perché diciamo che molto spesso si offrono per piccoli interventi migliorativi nella scuola, ovviamente da effettuare durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Nell'altro plesso, a loro volta le aule sono state comunque dipinte di recente, abbiamo avuto anche fondi ministeriali con il progetto Scuole Belle, anzi proprio qui diciamo che l'ultimo intervento è stato effettuato proprio qui dove oggi c'è la scuola primaria, anzi approfitto per dire che soffrendo di finanziamenti fondi sociali europei, dove sono ubicate le classi prime, fra un mese verrà allestito un laboratorio, l'ultima tecnologia adeguati ai bambini piccoli.